Le sirene blu delle auto della polizia locale suonano mentre due agenti depositano dei fiori sul luogo della tragedia. L'omaggio dei colleghi a Massimo Boscolo, il vigile morto a seguito dei traumi riportati dopo un incidente mentre era in servizio. Il 34enne, originario di Chioggia, è deceduto dopo 48 ore di agonia nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale di Padova. I colleghi, disperati per la morte del giovane agente, hanno continuato a portare fiori e preghiere per tutta la giornata. Ho lavorato con Massimo, una grandissima persona, un collega eccezionale. Ci mancherà tanto. Le lacrime per una morte così assurda. Sabato mattina Boscolo era impegnato in via romana a Ponense in un servizio di scorta durante una manifestazione di handbike del team Obiettivo 3, fondato da Alex Zanardi. All'improvviso, mentre stava superando un'auto, è stato colpito da una vettura che stava effettuando una manovra di svolta. La gente, prima di finire, violentemente a terra, ha sbattuto contro un palo della luce e un cartello della segnaletica. Purtroppo, ferite e traumi sono stati fatali. La famiglia ha deciso di donare agli organi un ultimo gesto di generosità di Massimo. La gente, che viveva a Chioggia con papà e fratello, vigili come lui, era arrivata alla polizia locale di Padova due anni fa. Prima era stato in servizio per il comune di Mira. Un anime il cordoglio dell'amministrazione comuna le Padovana, con il sindaco Sergio Giordani, che pensa ad un momento per ricordare il vigile. Il capo di granito si è organizzato, è stato ancora veramente infernale, è stato un paio, due o tre volte. Speravo in un miracolo. Già all'inizio era molto difficile, mi spiace tantissimo. Anche i suoi colleghi erano veramente affranti.